salve a tutti ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video continuiamo qui su dei zii ci siamo lasciati lo scorso appuntamento ormai siamo prossimi all'aeroporto abbiamo trovato riparo in questo questa roulotte e quindi continuiamo la nostra avventura vediamo un po come riusciamo ad avanzare lungo la nostra strada per per l'aeroporto appunto qui dovremmo essere in una delle entrate ovviamente della dell'aeroporto ce ne sono diverse ma ormai noi abbiamo imparato questa di strada quindi cerchiamo di orientarci un attimino sperando di non trovare veramente qualcuno che ci faccia la festa quindi cerchiamo di controllare perché comunque credo che sia una zona ambita questa dell'aeroporto quindi è meglio prestare un po' attenzione allora vediamo un attimino che com'è la situazione dato svucciamo un attimo con con la pistoletta che nelle zone più strette è meglio allora i colpi li prendiamo e che altro c'è razzo di segnalazione e mi sembra basta noi cortista ma prende tutti sperando di dover trovare anche le armi per utilizzarle a proposito di armi vedendo anche i commenti che mi avete lasciato e vi ringrazio sempre di questo ho abbandonato quella pistola da caccia che avevamo trovato perché comunque non avevamo ancora recuperato i colpi ma mi sono tenuto il l'ottica diciamo anche se un po distrutta però potrebbe essere utilizzata appunto come come cannocchiale come binocolo per poter vedere un po' più da lontano è comunque un'ottica che va inserita necessariamente sulle pistole quindi non posso neanche montarla sul fucile però mentre insomma me la so me la so tenuta allora non so se questa è la zona giusta ma credo di sì queste sono comunque le cinte perimetrali quindi cerchiamo di iniziare a vedere un po la le varie costruzioni mi ricordo che c'era la zona diciamo in costruzione che dovrebbe essere quella laggiù perché vedo pure un pezzo di denagru e poi c'è la parte quella dei dormitori che ancora non riesco a vedere più la parte ovviamente con gli angari le piste eccetera quindi a cazzarola già vedo lì la zona del gas quindi prestiamo attenzione ovviamente la non ci andiamo vorrei andare però nella zona della torre di controllo perché l'ultima volta che siamo stati qui abbiamo trovato un bel po di roba gente che sarà ammazzata e che aveva lasciato appunto a cadere un po di di cosette è un po come la situazione adesso è problema che sti spazi così ampi e c'è qualcuno bella appostato ammazza abbastanza easy ora lasciando la parte di costruzione che non credo che troviamo qualcosa di buono facciamoci intanto il giro di questi container qua e appunto indirizziamoci verso la torre di controllo sperando che non sia nella zona che calcio di legno non sia nella zona che per il momento non è agibile per via del gas questo è chiuso anche quell'altro quindi tutta sta parte a destra per il momento la saltiamo dovrei pure mangiare dannazione è un po come la la situazione il server mi dava popolazione bassa però siamo comunque in una parte della mappa abbastanza diciamo preziosa ora vediamo un attimo se ci sono che ha fatto più in merda ma già visto ah che palle dai vieni qua vieni qua che giro stai a fa ma non sei incastrato in mezzo al muro ottimo e niente ovviamente se va a a togliere nel momento in cui arriviamo noi ok ottimo così non dovrebbe aver fatto poi troppo danno che c'ha giubbotto da campo rovinata che non ci fanno niente il berretto però ci sono questi due corpi che non sembrano male noi prendiamo tutto ripeto poi vediamo se effettivamente ci servirà o meno allora diamo un'occhiata qui nei dormitori lì c'è un altro zombie anche laggiù ovviamente questi magari sono nati perché ci siamo noi adesso però qui nei dormitori ma soprattutto nelle docce abbiamo trovato sempre qualcosa di interessante tipo sto giubbotto non sembra male per quanto danneggiato dovremmo togliere questo qui anticoltello vediamo un po infatti però insomma abbiamo un po di di tasche in più forse questo è che ci protegge moltissimo rispetto a questo eh il tessuto riduce l'impatto degli attacchi da coltello però forse ci ci aiuta anche per quanto riguarda i proiettili qualcosina oddio è stata messa a cacchio così vabbè vediamo un attimo dai se proprio ci serve se ne troviamo un altro lo utilizziamo questo che è mirino si ottiche privi di zoom montate letteralmente lo dico di illuminato alimentare patrini fucile derivati da k beh non ce l'abbiamo se trovassimo pure il fucile non sarebbe male questo è un calcio fucile da battaglia lar che non abbiamo manco questo dico tutti accessori ma ci manchiamo della prima dai dov'è questo caricatore contiene 5 munizioni quindi non sarebbe male cioè adesso è volato però insomma ne entrerebbero 5 questo se lo portiamo perché siamo fortunati zeno d'alpinismo questo c'ha 80 slot questo non è male aspetta un attimo questo ce lo cambiamo e come allora iniziamo a spostare un attimo tutta roba è un po' una rottura di scatole questo che sto facendo abbiate pazienza ma non credo ci sia un modo più veloce per per farlo vabbè poi questi proiettili devo mettere un attimino meglio allora togli un attimo questa eeeh ok questa per disinfettare questo in teoria ce la possiamo pure mangiare ok a posto diceva eeeh questa scatola che ormai è in mezza aperta mangiamocelo un po' così non dovrebbe mancare molto non si basta così senza esagerare va bene allora per il momento lo zaino ce lo siamo cambiato che è già qualcosa di buono eeeh sono deciso in verità questo giubbotto raga non so se sto a fare una cazzata lasciarlo qui però eh però mi da l'idea che il giubbotto questo che abbiamo noi sia magari migliore come come protezione ok che non è proprio un giubbotto anti proiettile ma comunque un minimo più di protezione di quello la che praticamente in giro anche i taschi forse ce lo dovrebbe comunque dare poi visto che abbiamo cambiato lo zaino adesso di avere ancora più spazio in verità non ne sento la necessità e allora vediamo qui com'è la situazione non c'era un ammortizzo in giro quindi mi vedo oh cazzo ha fatto un po' più caciara rispetto a non mi è sembrata proprio come silenziatore a meno che negli interni ovviamente non ha rimbombato un po' di più del solito per un attimo ho pensato che non ci fosse il silenziatore attaccato che è sta cosa niente di che non c'è niente speriamo che non ci abbia sentito nessuno poi andiamo a vedere se c'è qualcosa all'interno anche dello zombie eh oh qua oh eccolo qua c'è sempre un fuciletto dentro ste ste docce l'usg 45 che era mi pare lo stesso che avevamo trovato l'altra volta questo non è male però manca di caricatore dannazione manca di caricatore e niente portamosa appresso regà questo ci ci toglie un bel po' di peso però eh però senza caricatore mh mh e un po' tatti è a parte che è mezzo mezzo malconcio vabbè vediamo dai se poi non troviamo niente lo lo cambiamo osg 45 non è questo eh no questo è il bike a 5 quindi niente mi ricordo l'altra volta avevamo trovato tipo tutto bello completo con calcio ehm caricatori insomma era veramente messo molto meglio però vabbè sempre meglio di niente se siamo fortunati troviamo qualcosina in più allora qui che c'è granata fumaggine giacca da da pattuglia ehm aspetta però giacca da pattuglia dovrebbe sostituire questa da 30 slot eh questa messa che c'è la cambiamo regà metti qua eppure intatta si siamo anche un filino più ehm mimetici sentono zombie da qualche parte quindi cerchiamo di non attirarlo oh cacchio ce ne stanno un bel po' là una chilla ho sentito pure una gallina ma è sembrato di sentire ok allora sta anche un po' tramontando il sole quindi cerchiamo un posto pure dove stare non so riuscire a individuare ancora il la torre di controllo anche perché questo aeroporto è veramente grande andiamo un attimo anche dentro i bunker qua a parte che ci stanno queste porte aperte che non è che mi piacciono molto qua non c'è niente si c'è una c'è una gallina da qualche parte allora fammi il giro per te qua nel bunker ok che poi il bunker è in hangar praticamente allora i colpi qua ce li prendiamo scusa scusa colpi .45 ce n'abbiamo un sacco ma non so ancora riuscire a trovare dannazione questi per questa pistola di 9 e 19 possibile che non ce li ho possibile sì possibile sì non ce li ho ancora vabbè comunque questa che è questa una giacca un bomber vabbè non si fa ma niente quella è un'altra giacca militare vediamo un po' questa giubbotto da combattimento questa non è male questa è da pattuglia questa è da combattimento ok forse è meglio ok che cazzo sta sta gallina che si sente ah è che ha là è sto gallo cioè vabbè lo lasciamo lì eh non ci mettiamo ad ammazzà galli si sta lì e non rompe scatole grazie ma si attenti perché ok questa è una rete mimetica non ci serve qua niente assolutamente niente allora entriamo dentro a quest'altro bunker qui vediamo com'è la situazione questa foto questa foto riesco a passare sempre dalla dalla parte posteriore diciamo senza entrare dal davanti infatti vedete c'è uno zombietto là se fossimo entrato dal davanti ci avrebbe ci avrebbe preso allora questo è un fx 45 e ce l'avevo un altro dei zombie chi è che ci ha visto? eccolo oh oh ok perfetto ok ok c'è qualcos'altro con la pe terra che però non riesco a vedere mi sa che devo spiegare un altro corpo regà ok ok allora approfitto anche per mangiucchiare qualcosa ovviamente la pistola lasciamo qui ragà non è che devo andare a prendere veramente tutto quello che c'è è un casino no sono solo curioso di capire questa è una granata questo che è fascia per la testa questo non c'è niente di che questo ne metto io sta cavolo de de gallo e niente proseguiamo regà un altro zombie allora continuiamo l'esplorazione tanti altri zombie vediamo se siamo fortunati a evitare che ci vedano vai dai 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 corri 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 ok forse sì sì forse sì no che voglio entrare qua dentro il problema è che ce n'è uno qua eh no direi di nuovo so infatti no aia lui è in corpo ci tua ok il problema è che mo' c'è quell'altro che è praticamente de fronte e mi ha visto infatti dai vieni qua aia e che armati cazzo c'è un altro là questo che c'ha vabbè niente che ci interessa devo iniziare a togliere un po' di roba perché mi sa che col fatto che raccattiamo tutto iniziamo ad essere un po' pesantini dai dai rimani lì non voglio sparare i corpi e niente proprio qua devi venire annaccia la misera poi faccio il giro dai vai vai questa può andare bene stare lì giacca da campo ok una granata una granata frammeggiante frammeggiante frammentazione frammeggiante che cazzo dico un sacco di granata di frammentazione no che è sta crociando in corso al resto del server mazza di sfiga non ho letto neanche l'avviso sicuramente c'è stato ma non me ne soccorto vabbè e niente raga per causa di forza maggiore direi che ci possiamo anche salutare qui certo stavo dentro quella quel dormitorio che non è proprio il massimo soprattutto perché poi noi per uscire dobbiamo necessariamente apri la porta non sappiamo chi c'è oltre insomma è una situazione un po' un po' così le granate a frammentazione sicuramente sono buone il problema è che non l'ho ancora mai utilizzato ed è un casino insomma ora vediamo se recuperarli o meno va bene allora direi che ci possiamo anche salutare qui io come sempre vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao